Mauri Guerra, qual è l'orgoglio di Cambiaso Risso di affiancare le due squadre special di Genoa e Sandoria, due fiori all'occhiello della città? Ricordiamo, Cambiaso Risso da sempre vicino allo sport. Tra le iniziative che noi abbiamo ormai da anni adottato al sostegno dello sport, questa che Genoa e Sandoria mi hanno presentato è sicuramente una delle più belle. Quindi con grandissimo entusiasmo la nostra azienda ha accolto questa opportunità di sostenere dei ragazzi diversamente abili che giocano un campionato sostanzialmente di Serie A. È bellissimo vedere che le città professioniste hanno, ciascuna di queste, adottato una squadra e hanno praticamente una quarta categoria che giocano un campionato di Serie A con persone che hanno problemi di carattere psichico e mentale. Cambiaso Risso vicino ad atleti come Emma Quaglia, come Alessandro Giannessi, a grandi eventi, il Challenger, ricordiamo, migliora il mondo nel 2014, il vostro claim è lo sport ti rende forti. Un claim naturalmente da condividere con queste due squadre. Beh, a noi questo modo di dire che ormai fa parte della nostra cultura quotidiana è servito moltissimo anche nel lavoro, perché quelli che sono i valori dello sport e quindi la lealtà, il rispetto dell'avversario, la tenacia, il non mollare mai, è un qualcosa che ha ormai unito tutti i nostri colleghi e ha portato anche la Cambiasi Risso ai livelli di oggi e quindi credo che sia giusto che la Cambiasi Risso restituisca allo sport quello che ha avuto dallo sport in questi anni, che ripeto è stato tantissimo. Grazie mille.